il vitara dopo mille manovre dico mille signori prova a fare il panettone quello un po' più un po' più difficilino se non riscappa eh gliel'ha fatta dio bono dio bono panoramica del culo anche qui c'è un po' d'acquina ma ma niente di che eee questa gliel'ha fatta gliel'ha fatta gliel'ha fatta dio bono gliel'ha fatta ma capirai con quei gommoni prova a fare quella c'è l'acqua a me sa un marcorre quale delle due eee questa signori c'è una pozza ci sono anche i rospi dentro è davvero oh di là di là raccordate è il piccolo suzuchino come gli da prova adesso a salire sul blocco guarda che devo armare dentro se ti si accavalla la gomma guarda che devo andare dentro guarda che devo andare dentro guarda che devo andare dentro